Intanto ragazzi scusate per il rumore ma fatto sta comunque ieri non vi ho portato al posto della Formula 1 perché ragazzi che senso avrebbe portarvelo Visto l'emozione, il pathos della gara di ieri che ci ha regalato quelle emozioni indimenticabili di una bella dormita sul divano per un'ora e mezzo davanti alla gara di Formula 1 Che ragazzi hanno in Formula 1 si sta veramente continuando a degenerare ragazzi ieri il GP di Francia veramente è qualcosa di imbarazzante Qualcosa di imbarazzante, imbarazzante che non lo so secondo me una gara di freccette o di bocce sarebbe più interessante, più emozionante Questa Formula 1 veramente sta degenerando, sta degenerando, non vi ho portato al post gara proprio perché volevo fare un video più riflessivo oggi Perché tanto che cosa c'era da dire? Cioè praticamente i post gara della Formula 1 potrebbero essere tutti messi insieme, li potrei registrare tutti dall'inizio dell'anno e sarebbero tutti fotocopie Primo Hamilton davanti a Bottas in una gara dominata dall'inglese Li potrei registrare dall'inizio dell'anno il ricarico per tutti i gran premi perché tanto nessuno si sgandalizzerebbe perché sarebbero tutti uguali i post gara Quindi mi ho portato quello in Canada dove almeno si era smosso qualcosa con quella penalizzazione di Fettel, con qualche polemica almeno qualcosa si era smosso Ma questa Formula 1 veramente sta degenerando, sta degenerando, sta degenerando in tutto e per tutto perché non c'è più un sorpasso, non si vede più un sorpasso Non c'è un'emozione, non c'è un guizzo, veramente manca proprio lo spettacolo, manca lo spettacolo in questa Formula 1 Ma mancano proprio anche i GP dove fare la differenza perché forse tante piste sono troppo strette o sono troppo corte E piste veramente che favoriscono anche la Mercedes che continua ad andare a vincere, a vincere, a vincere Sono dei circuiti veramente soporiferi che magari non ti permettono proprio di sorpassare altre macchine E finiscono così per diventare veramente delle gare piatte, noiose e soporifere veramente Come quella di ieri, veramente io credo si sia toccato il fondo perché una gara con così poche emozioni in Formula 1 Io ragazzi credo di non averla mai vista ma veramente una gara così piatta, piatta, noiosa Mi è mancato un guizzo, un guizzo Praticamente adesso l'unica cosa che può regalare emozioni è il cambio a gomme L'unico sorpasso che può arrivare è ibox Se sbagli la strategia è punto perché la macchina ha un'incidenza dell'80% 85% rispetto al pilota, per quello ragazzi perché basterebbe mettere che ne so Un pilota come Ericsson, Ericsson come si chiama, quello giovane della South Forse Ericsson, Ericsson, quello svedese Basterebbe metterlo sulla Mercedes e probabilmente anche lui andrebbe a vincere il mondiale Perché non so, basta salirci sopra la Mercedes, portarlo al traguardo e alzare le braccia al cielo sul podio E stappare lo champagne e fare la doccia con gli altri sul podio Evidentemente è quello che ci vogliono regalare di emozioni in Formula 1 Perché veramente si sta arrivando al degenero più totale Perché prima c'erano anche le emozioni comunque dell'incidente E non c'era tutta questa penalizzazione Adesso basta che lo sfiori, basta che lo tagli leggermente che arriva la penalizzazione Come è testimoniato anche da Fettel in Canada Veramente non ho parole Ma bisognerebbe proprio rimettere anche in Formula 1 per dare un minimo di sale Qualche GP storico come il Nürburgring che comunque ragazzi tra tutte quelle curve strette Ha sempre regalato emozioni Il vecchio Okina in quella foresta Istanbul Poi Valencia, Valencia che non c'è più Era bello come GP Valencia Era affascinante, GP cittadina Mi ricordo quella gara in cui 2012 Che secondo me è stato l'ultimo campionato del mondo spettacolare Vinto poi da Fettel per due punti sulla Ferrari di Fernando Alonso Tra l'altro in quel campionato del mondo c'erano stati Nelle prime sette gare sette vincitori diversi Mi ricordo vinse addirittura sulla Williams Vinse Maldonado a Barcellona davanti ad Alonso Me lo ricordo ancora Veramente un campionato quello che fu bellissimo Fu deciso fino all'ultima gara con Fettel che arrivò sesto mi pare E Alonso secondo e a San Paolo alla fine Alonso proprio perse per un'inezia il mondiale Ma appunto basterebbe rimettere un po' proprio di GP del genere come Valencia Vi stavo dicendo proprio a Valencia che tipo Alonso partì undicesimo Davanti c'era Fettel che aveva 20 secondi di vantaggio Ebbe un problema tecnico fu costretto a ritiro Anche Hamilton mi pare che ebbe un problema tecnico Addirittura arrivò primo Alonso mi pare davanti a due Mercedes mi pare il secondo Rosberg arrivò e terzo Schumacher addirittura nel 2012 Con Alonso che da undicesimo arrivò primo con una rimonta assurda Con Fettel che fu costretto a ritiro Grosjean pure fu costretto a ritiro Insomma quella fu una gara veramente straordinaria L'ultima gara che mi ricordo veramente straordinaria di aver visto Poi dopo quel campionato del mondo del 2012 Comunque con la sua imprevedibilità Aveva portato comunque Diciamo un po' più di spettacolo nella Formula 1 Che in quegli anni non si era visto Poi adesso ci sono le garete trenino Si parte primo, secondo, terzo e quarto Si mettono lì in fila E fanno il trenino Arrivano al traguardo E stappano il champagne sul podio Se questa è la Formula 1 che si vuole avere Bene E' chiaro che però perderà di tanti appassionati Perché ho visto dei dati Sicuramente avrà anche un'incidenza Il passaggio alla pay per view Dalla Raya Sky Però la Formula 1 Che prima aveva in media 11 milioni, 12 milioni di spettatori Adesso negli ultimi anni C'era 2-3 milioni E' vero che adesso è a pagamento Però fatto sta Gli spettatori della Formula 1 Sono molto diminuiti Perché anche è calato l'interesse Sicuramente i giovani Non si appassioneranno a questa Formula 1 Perché non c'è interesse appunto Mentre la MotoGP sarà molto più spettacolare Sempre della Formula 1 Per la sua imprevedibilità Che comunque appunto Il Formula 1 in questo momento non c'è Non c'è dal 2012 Ma questo è l'ultimo caso Però non c'è soprattutto dagli anni 80-90 Poi dall'epoca Schumacher forse In Ferrari non c'è Questo sale Questo pathos Questo imprevedibilità Che c'era in Formula 1 E adesso è chiaro che comunque Non ci siano più appassionati Di questo Che era un meraviglioso sport Io lo considero uno sport ancora Però perché questo era veramente Un meraviglioso sport Perché è uno sport estremo Perché comunque stare in macchina Due ore È sempre fatica E sforzo fisico E quello era veramente Comunque Uno sport che attirava tanti appassionati Che adesso questi giovani Chiaramente Se a vedere Una gara da un'ora e mezzo Monotona Chiaramente La Formula 1 Continuerà a perdere l'interesse E soltanto i vecchi appassionati Affezionati Ai motori Alla Formula 1 Continueranno a seguirla Ma chiaramente L'interesse non c'è più Se non ci saranno più sorpassi Se non ci saranno più gare Magari anche con incidenti Con safety car Con Magari anche Rimettere in rifornimento In Formula 1 Con dei GP Con dei circuiti Più spettacolari Che in questo momento Veramente La Formula 1 Sta toccando Il suo punto Più basso La pagina nera Forse della storia Della Formula 1 A livello di spettacolo Ieri L'abbiamo veramente toccata Con un'ora e mezzo Di farsa Più totale Perché Quella di ieri Era veramente una farsa Fatemi sapere voi Nei commenti Che cosa ne pensate Mi sono un po' dilungata Però è un discorso Forse affettivo Che ho fatto Alla Formula 1 Perché La Formula 1 Così è veramente Insignificante Non ha assolutamente Nessun significato Portarla avanti Così Fatemi sapere voi Nei commenti Che cosa ne pensate Lo so se non vi piace Il video Condividete questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E speriamo di vedere Un briciolino Un barlume Di spettacolo In questo campionato Del mondo Che Per ora Di emozioni Ci ha regalato Soltanto Le dormite Domenicali Sul divano E a questo punto Arrivederci Ragazzi Al prossimo video Grazie